tutto quello che vedrete in questo gameplay risulta essere abbastanza inaccettabile partiamo con ordine prima di tutto diciamo subito che il replay è abbastanza buggato perché non ci dà contezza dei nemici non vengono elencati né qui né tantomeno vengono fatti vedere in alto quindi abbiamo già un problema di bug perfetto questa in realtà non è una partita non è una partita perché era partita con dei buoni propositi nel senso che fare un gameplay sulla corazzata tedesca di livello 10 in Mecklenburg ok ho detto vabbè cosa porto questa qui manca da un po' eccetera eccetera facciamo vedere un pochino come spara come sempre no però poi succede un qualcosa che in qualche modo è andato a cambiare l'aspetto e l'impronta del video stesso ora vi do 5 secondi per dirmi subito nei commenti se avete notato cos'è che non va in questa partita partita tra tantissime virgolette qualcuno me lo può spiegare perché sta succedendo questa cosa ora qualcuno per cortesia mi può dire per quale ragione le navi su Charlie vanno via da Charlie e arrivano su Alpha è proprio questo il problema solitamente sapete che io ho la chat disattivata perché non la uso non leggo quello che scrivono perché nel 99% dei casi si scrivono cose che non servono alla partita però in questa circostanza ho chiesto in chat scusate ma perché state lasciando il settore di Charlie perché magari ho detto aspetta magari non li ho capiti io queste hanno una tattica strana vincente che in qualche modo vogliono mettere in pratica senza contare poi fate finta di non vedere il fumo della 052 nei confronti dell'hosting perché sinceramente qui ok raggiungiamo anche delle parentesi un po' simpatiche cioè il fumo della 052 per l'hosting qua arrivano due silure e l'hosting ce lo giochiamo per assurdo sì ok il club bear non è questo il caso però sono convinto che anche qualora ci fosse stato una shimakaze avremmo visto più o meno la stessa cosa comunque non è questo il punto non è questo il punto del video fumo o non fumo secondo me comunque l'hosting non poteva e doveva fare da solo ok come vedete poi la partita prende in questa fase partita sempre tra virgolette vado a pensare una cosa in questa fase specifica penso attaccando sempre il sommergibile che tra l'altro non attacca nessuno ok solo l'incomparebolo sta lanciando giusto qualche qualche fiocco di neve penso a questo punto vado a difendere Charlie mi vado a sacrificare mi vado ad immolare per la patria cerco di rallentarli e in 11 tecnicamente dovrebbero vincere su alfa ok perché ho visto partite anche perse in 11 lasciamo stare è un'altra storia poi ve la racconto però poi dico aspetta se vado su Charlie mi trovo il sommergibile il cacciatore pioniere l'incrociatore stanno scendendo le corazzate eccetera eccetera quindi vado a cambiare nuovamente idea e decido di rimanere tra il settore di alfa e il settore di bravo ma non per mia volontà perché comunque sia la partita io devo farla su alfa sono spawnato su alfa rimango su alfa perché appunto c'è una divisione equa delle navi una corazzata lì una corazzata lì un incrociatore un incrociatore un cacciatore pioniere un cacciatore pioniere quindi io gioco nel mio settore cerco di vincere il mio settore invece no la squadra decide così di sua iniziativa totalmente errata di lasciare il settore di Charlie in preda ai nemici ora voi mi dovete dire in quale gioco una cosa del genere è accettabile ovvero se voi state giocando con un FPS no e tutti vi ammassate su alfa non penso che sia la scelta corretta perché su alfa magari poi cade una bomba una granata e vi secca tutti quanti ok la stessa identica cosa ancora peggiore poi magari dall'altra parte su Charlie spingono i nemici da dietro che stanno correndo nel frattempo con il loro mitra e vi vengono a sparare la stessa identica cosa anziché il soldato abbiamo le navi avviene su World of Warships se noi lasciamo il settore di Charlie in questo caso scoperto cosa succede viene cappato dai nemici regalato senza neanche combattere cosa ancora più brutta i nemici come vedete iniziano a spararmi nel lato iniziano a spararmi perché stanno iniziando a scendere capendo che non c'è nessuno su Charlie vanno sul settore di Bravo e quindi noi in definitiva non solo dobbiamo affrontare le navi che sono su alfa dobbiamo affrontare anche questi che stanno scendendo liberamente sul settore di Charlie quindi capirete bene che c'è un problema alla radice un problema alla radice io sono giunto alla conclusione dopo sette anni di gioco quindicimila partite eccetera eccetera che le persone non sono interessate a divertirsi eh ma come devi scusa uno gioca World of Warships perché si vuole divertire eh no vi spiego l'analisi una persona si diverte nel momento in cui riesce a sparare agli avversari o riesce a difendersi in maniera efficace sempre contro gli avversari se io non posso fare né una cosa né l'altra perché la partita sempre tra virgolette è impostata male è nata male non potrò divertirmi ok quindi farò divertire gli avversari ma non mi vado a divertire io in prima persona poi tra l'altro ho scritto in chat a un giocatore che penso che sia italiano cortesemente può andare a spottare su bravo puoi farmi vedere un pochino quello che sta succedendo ovviamente nessuna risposta per quanto poi riguarda invece l'attacco sull'incrociatore inglese i nostri sommergibili pensano bene di andare entrambi ad attaccare una nave che viene già cerchiata da altre sette navi perché ci sono io altri due incrociatori altri tre incrociatori e un'altra altre quattro corazzate senza contare che una corazzata rimane più indietro in i7 come se tutto fosse normale capito perché poi cos'è che avviene in definitiva quando un giocatore decide di abbandonare un settore ben specifico come in questa circostanza che il compagno davanti a lui vede dice cavolo questo se ne sta andando adesso quasi quasi me ne vado anche io il terzo giocatore poi dice aspetta ma questi due se ne stanno andando a questo punto me ne vado anche io e così in definitiva andiamo a perdere lasciamo libero un settore di Charlie tra l'altro qui c'è il sommergibile nemico so perfettamente dove si trova ho visto il ping eccetera eccetera semplicemente mi ero scordato di attaccarlo o perlomeno se ricordo bene lo faccio in questa circostanza dovrei farlo vagamente in questa azione comunque cerchiamo di rimanere operativi sulle navi che stanno scendendo dal settore di Charlie una partita dentro la partita un errore dentro l'errore ecco perché ho scelto questa partita perché non è tanto il danno capirai 50.000 danni 2 kill con qualche qualche bomba sul sommergibile nulla di entusiasmante anzi partire nella partita perché i nemici non solo avevano la possibilità di scendere in maniera più convinta più cattiva dal settore di Charlie mantenendo anche un buona una buona presenza su Alpha sono stati completamente distrutti il cacciatore che giocava avanti e indietro i due incrociatori che si sono messi in H1 non ho ben capito cosa volessero fare ancora una volta il ping ok in questa circostanza lo voleva attaccare però i nemici proprio non vanno a sfruttare quello che è appunto la possibilità di una pushata concreta mandano avanti addirittura gli incrociatori si vede chiaramente il Salman che è costretto a bloccarsi in F7 perché dice aspetta ma qui che cosa sta succedendo non posso avanzare perché ho due corazzate davanti a me quindi ovviamente è costretto ad indietreggiare i nostri cacciatore penieri con i due sommergibili quindi quattro navi oggettivamente tattiche decidono di andare completamente in un settore ok quindi li ritroviamo guarda a un certo punto si vede che sono tutte e tre loro in E3 due cacciatore penieri e un sommergibile quindi non c'è neanche diversificazione delle navi in mappa altro errore cos'altro dobbiamo dire cos'altro dobbiamo dire ho perso anche la voce no nulla non voglio dire più nulla mi sono staccato anche a commentare quello che sta succedendo una partita preimpostata in maniera errata e io sono stato costretto a fare quello che la squadra ha deciso su un qualcosa di errato ok quindi come faccio a commentare un qualcosa che io stesso non volevo fare sono stato costretto a venire da questa parte non sarei mai venuto cosa ben diversa se ci fosse stato un protone di tre persone quindi io insieme ad altri due compagni sicuramente avremmo potuto in qualche modo decidere di andare su Charlie perché in tre ci saremmo sacrificati per la patria e avremmo rallentato i nemici però poi lì cosa sarebbe successo che magari il un compagno va a spawnare su Alpha e sarebbe stato costretto ad andare su Charlie quindi capirete bene tutto il casino che si viene a creare semplicemente perché tre quattro navi non decidono di giocare sul settore che gli compete questo è quanto e doveva essere ripeto ancora una volta un gameplay sulla corazzata Mackellenburg in questa partita tra l'altro non ho sparato minimamente le AP che sono davvero molto buone con i 305 ho sparato solo ed esclusivamente le HE perché volevo finire il prima possibile questa partita ho detto spariamo tutto quello che abbiamo avanziamo non me ne frega niente voglio finire questa partita non ne voglio sapere più niente infatti qui può vado ad attaccare anche il sommergibile avversario ancora una volta figurati se non chiamo le cariche le altre navi non lo so ragazzi diventa anche difficile commentare quello che avviene poi le navi nostre che succede a un certo punto si bloccano non vanno più per alfa perché vedono ormai la nave nemica in A4 e decidono di tornare indietro è tutto meraviglioso questo gioco è meraviglioso le tattiche dei giocatori mi sorprendono sempre mi fanno anche particolarmente sorridere devo essere sincero perché pensano delle cose secondo il mio punto di vista totalmente errate però poi magari oh mi sbaglio io non lo so e quindi ci ritroviamo queste partite che partite tra virgolette che vengono fuori i nemici sono rimasti penso in due o in tre ci decidiamo finalmente di cappare il settore di bravo mentre i nostri sommergibili il nostro cacciatore peniere continua ad inseguire la nave in A4 quindi della serie io voglio fare il danno non mi interessa del cap e sono sicuro che questa cosa sarebbe successa anche nel momento in cui magari la squadra nemica avesse tutti i settori di cap quindi non so mi vado a inseguire la nave in A1 ok che mi fa perdere tempo 5 minuti finché arrivo però il cap lo lascia agli avversari quindi 5 minuti che il cap genera punti sono cose fantastiche cosa dobbiamo fare qua stiamo provando ad attaccare il sommergibile questa visuale per quanto riguarda tra l'altro vedete c'è l'isola che un po' ci dà fastidio andiamo a chiamare delle gariche ancora una volta sul sommergibile avversario qui lupo 1957 prova con la sua curfusa a darci un po' di fastidio contro viriamo a sinistra danno da esplosione non colpo diretto quindi è semplicemente un esplosione appunto un danno da esplosione incapacitazione e poi incendio a bordo della nave avversaria e ci portiamo a caso una kill secondo me anche i nemici in questa partita non hanno capito quello che stava succedendo è una partita dove sinceramente neanche io l'ho capito non so neanche io come abbiamo fatto 3 kill non so neanche io come abbiamo fatto 100.000 danni non so neanche io perché la stiamo vincendo è una partita benissimo che si poteva perdere perché loro tatticamente erano messi bene però è andato secondo me hanno giocato male i loro incrociatori sul settore di alfa e ancora di più il loro club r che sicuramente poteva essere molto più insidioso in determinate le circostanze però ripeto ancora una volta la partita è nata così e quindi ce la teniamo e che che vuoi dire è una partita del genere come fai a commentarla come fai a dire tutto negativo tutto completamente non salverei nulla di questa partita zero assolutamente zero quindi ancora una volta fate poi la rugumo si fa distruggere dallo chiffren che sicuramente si è avvicinato quello ha pushato con la idro l'ha beccato ed è stato distrutto è tutto meraviglioso non ho nient'altro da dire fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate torniamo nel porto per le conclusioni finali per favore torniamo nel porto subito subito la nave che avete visto in questa non so se definirla partita non so neanche io come definirla è la mckellenburg corazzata di livello 10 tedesca queste sono tutte le i suoi potenziamenti le bandierine il capitano come è settato e poi qui le sue caratteristiche ragazzi io sinceramente non ho nient'altro da dirvi vi faccio vedere solo quello che effettivamente sono i valori della nave poi mettete pausa insomma e ve li potete studiare con con tutto potete dedicare tutto il tempo che desiderate nulla ragazzi non ho nient'altro da dire sono stato penso abbastanza chiaro video terminato io come sempre vi ringrazio per like commenti e le visualizzazioni noi come sempre ci vediamo con un'altra partita o qualcosa del genere non so più come chiamarle sinceramente sono in difficoltà ciao 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 Grazie a tutti.